per i miei ragazzi in bianca della razza vince, forza Camilla cattai Fabio vai lui in ritardo oh scusa categoria ragazzi bianca giallo arancio Moschile, 45 kg tatami 6 Benar Alessander Vanucchi Davide, Valota Lorenzo, Alfano Marco Cleri Valeri Tremorici Leonardo Valzi Paolo Berlino Alessandro, tatami 6 Giulio più veloce Giugno più veloce Sì vede Sì vede Sì vede Sì vede Sì vede Sì vede non sono molto d'accordo